Buonasera a tutti amici eccomi qui con un nuovo video scusate il ritardo ma la partita non l'ho potuta vedere quindi mi sono visto gli spezzoni, gli highlights, ho visto qualche dato quindi non riuscirò a commentare tutta la partita ma quelle fasi salienti che ho visto le voglio commentare allora ragazzi un pareggio che non sta bene a nessuno dei due specialmente a noi perché noi adesso siamo pari alla Juve abbiamo buttato due punti al vento Lautaro ha segnato ma per due centimetri da fuori gioco Lukaku mi sbaglia sempre il gol davanti alla porta gliela spara al portiere anziché di farle una rasoterra così non lo sa fare lo sa fare ma mi sbagli sempre le stesse cose allora ragazzi finisce 1-1 una partita che come si vedeva alla fine dei conti mi aspettavo questo risultato diciamo più un pareggio me l'aspettavo però tu onestamente manca proprio il centrocampo l'unico che a me è piaciuto è stato Borca Valero Borca Valero ha fatto un partitone della Matosca cioè come ho visto io quegli spezzoni che ho visto Borca Valero ha fatto una partita veramente eccezionale poi ho letto anche qualche ho letto sulla diciamo su OneFootball tutta la diciamo la cosa della partita non l'ho potuta vedere per farmi un'idea però Borca Valero ragazzi come ho capito io ha fatto una partita molto importante ha giocato benissimo ha rispettato l'esultanza diciamo ha rispettato perché lui ha segnato ha rispettato i suoi ex tifosi della Fiorentina quindi non ha esultato ed è un grande onore ma ha fatto un partitone Brozovic alla fine è arrivato che non ce la fa più Mesino che mi pare che al primo tempo mi tocca qualche pallone poi non mi tocca più C'è Skriniar doveva pure bloccarla Valero mi pare che ha fatto visto il gollo che ha fatto mi pareva mi pareva il gollo di come posso paragonarlo ma sì dai un gollo di Mark Lenders diciamoci la verità Cioè mi pareva un gollo di Alloy e Benji quello lì veramente stiamo parlando perché quello tu comunque lo potevi stoppare lo mettevi per terra prendevi l'ammunizione e basta perché tu la Skriniar ha fatto qualche errorino ma lasciamo sta punti che secondo me non si dovevano buttare però da una parte arriviamo anche stanchi ragazzi perché noi comunque stiamo giocando con gli stessi giocatori con gli stessi giocatori ragazzi e non ce la facciamo più su due punti che comunque non dovevamo buttare non dovevamo buttare perché questi punti qua comunque noi dovevamo prenderli perché noi sull'1 a 0 abbiamo cercato di tenere l'1 a 0 no no noi abbiamo stato pure spregoni ma voi dovevate farlo da 0 già al primo tempo quella partita 2 a 0 doveva essere chiusa e basta basta per me poteva finire pure 2 a 1 per me era già più che sufficiente però per quello che si è visto in campo è finita 1 a 1 basta sono stati buttati dei punti importanti e se devo dire la mia ho visto Biraghi un po' schifoso niente per Biraghi ma se ne può tornare dov'è secondo me perché guarda veramente lasciamo stare perché comunque non diamo la colpa solo a lui c'è la stanchezza tanta stanchezza e noi stiamo facendo molto più del dovuto quindi noi comunque abbiamo vinto 7 trasferte non stop è normale che ci sta quindi raga che vogliamo di più è vero noi quei punti non li dovevamo buttare ma Inter non dovevi buttarli non dovevi buttarli comunque raga è arrivata un po' stanca perché comunque si capisce ma sabato dobbiamo giocare in caso con il Genoa è nata parte d'accia perché il Genoa si deve salvare e c'è proprio perché poi arriviamo l'inverno arriviamo a decembre succedono sempre le stesse cose come gli altri anni comincia la crisi ma non dico che comincia la crisi speriamo che avrò torto speriamo che avrò torto ragazzi miei ragazzi miei ragazzi miei io onestamente sono un po' come di un po' ammareggiato per sta cosa perché poi comunque vabbè lasciamo perdere ormai è finita così è finita così perché poi ho fatto ancora della madosca quello là io ancora se ci penso vabbè raga allora parliamo un attimo dei sorteggi c'è stato le sorteggi di Champions accorcio un pochino perché anche se siamo a 5 minuti comunque allora ragazzi oggi c'è stato il sorteggio di Champions League io non ho visto la diretta perché ho avuto un po' da fare e quindi ho visto nel pomeriggio diciamo i sorteggi che ci sono stati l'Atalanta e la Juve vanno molto più che bene l'Atalanta pesca il Valencia quindi l'Atalanta ha la possibilità di andare in quarti non sarà facile contro il Valencia però avrà la possibilità la Juve pesca il Lione il Lione in casa è un pochino insidioso però credo che la Juve passi ma quella che è andata male è stata il Napoli che è andata a prendere il Barcellona allora ragazzi come sta il Napoli adesso il Barcellona secondo me il Barça passa a me mi dispiace per il Napoli a me mi dispiace perché vorrei che fossero tutte le italiane in Champions League però secondo me perché la prima partita si gioca in casa e voi dovesse fare un risultato almeno di 2 3 a 1 su per giù ma anche il gol dovete farli fare ma poi quando andate a giocare è tutta un'altra cosa e noi ne sappiamo di esperienze perché noi con la Rosa Cort l'abbiamo cercato di tenere testa un pochino ma poi è finita come è finita ma voglio vedere loro come vanno bisogna vedere pure il mercato che se prenderanno qualcuno se Gattuso li vitalizza non lo so quindi due bene per gli italiani in Champions e una no andiamo avanti in Europa League parlando dell'Inter che pesca Ludo Gorex Rakzard una squadra bulgara una squadra che ha messo in difficoltà il Milan un tempo fa l'Inter con qualche innesto dovrebbe andare bene dovrebbe superare il turno perché gli innesti a gennaio li faremo per forza e Ludo Gorex è una squadra che comunque adesso non sta andando molto bene perché sta andando avanti di pareggi 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 quindi non sta andando come deve andare però ragazzi noi andiamo a giocare prima la partita in trasferta quindi dobbiamo cercare di fare il punteggio almeno di 2 a 3 a 0 in trasferta o massimo 2 a 1 ma non lo so e poi ce la giochiamo in casa è sempre meglio che noi ce la giochiamo in casa alla fine sempre ricordatevelo e l'inter perché Ludo Gorex è una squadra bulgara non è niente di che non è niente di che perché se devo vedere un attimo la classifica del Ludo Gorex e la Zad ragazzi come so io allora vediamo mamma mamma allora ragazzi in questo momento il Ludo Gorex adesso comunque è prima a 48 punti ragazzi però viene da un momento di pareggi cioè ragazzi se noi andiamo a vedere col CSKA con quel Ceno More col Franco Ros nell'Europa League e con lo Slavia Sofia quindi non c'è in un bel momento però si trova in prima posizione con massimo punteggio se noi ragazzi dovremmo comunque cercare di fare del nostro meglio noi dovremmo farcela con questa squadra perché noi avremo tutte le qualità credo che noi avremo recuperato tutti i giocatori almeno credo e qualche innesto in più e poi ce la giociamo a Milano la Roma pesca il Ghent una squadra super giù così la Roma credo che ce la farà passare la prima partita la giochi in casa quindi importante che la Roma si fa o meno quei risultati in casa e sta sicuro del passaggio del turno per l'ottavi bene ragazzi questo è il mio video più di questo non posso dire nella gioia nel dolore e all'Inter o gioia d'amore amala iscrivetevi grazie a tutti